Dunque noi all'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova abbiamo un gruppo di ricercatori molto vario e soprattutto una ricerca multidisciplinare che mette insieme praticamente scienziati dei materiali con scienziati invece di tipo biologico e biomedico. E questo ha permesso di creare un prototipo di una nuova retina artificiale che ha delle caratteristiche abbastanza originali rispetto agli altri tentativi che vengono fatti in letteratura. Allora noi sappiamo che nella nostra retina gli unici neuroni che sono sensibili alla luce sono i fotorecettori, i coni e i bastoncelli, quindi quando i fotorecettori vengono a degenerare la retina appunto non è più sensibile alla luce. Allora quali possono essere le due strategie per ridare sensibilità alla luce quando ormai i fotorecettori sono persi? Allora si può o modificare geneticamente come abbiamo sentito questa mattina i neuroni della retina, in particolare utilizzando l'optogenetica che permette di esprimere delle proteine sensibili alla luce simili alla rhodopsina. Però questo ovviamente implica una terapia genica. L'altra possibilità invece è creare un'interfaccia dei neuroni retinici rimasti, una volta che i fotorecettori sono degenerati, con dei materiali intelligenti, le cosiddette smart materials, che siano intrinsecamente fotosensibili e che quindi svolgano il compito dei fotorecettori. L'idea è venuta all'IT con il gruppo del professor Lanzani di Milano che ha come oggetto principale dello studio dei polimeri organici fotovoltaici che sostanzialmente danno la possibilità di creare delle celle solari anziché basate sul silicio, quindi rigide come quelle che conosciamo, invece delle celle solari estremamente sottili, flessibili, con cui potenzialmente uno potrebbe anche rivestire le pareti di un edificio. E questi polimeri fotovoltaici messi tra due elettrodi metallici, una volta colpiti dalla luce, creano una separazione di cariche, un campo elettrico e quindi generano energia. E allora noi abbiamo pensato, tutto sommato, questi polimeri funzionano non in maniera molto diversa dai nostri fotorecettori, cioè convertono i fotoni della luce in un segnale elettrico. E allora abbiamo provato a vedere se effettivamente il contatto di neuroni con questi polimeri poteva essere in grado di attivare i neuroni. Qui vi fa vedere per esempio la struttura chimica del retinale, che è il gruppo chimico sensibile alla luce dei nostri bastoncelli, dei nostri fotorecettori, che è quello che si isomerizza quando arriva il fotone, e l'unità elementare del polimero organico P3HT, che è un po' il capostipite di questi polimeri fotovoltaici. Ci vedete che c'è una certa somiglianza nella struttura. La prima cosa che abbiamo visto è se questi polimeri, che su cui non si vede quasi, sono sostanzialmente compatibili, cioè non nuociono ai neuroni. E quello che abbiamo visto in laboratorio è che i neuroni possono crescere tranquillamente su queste sostanze, e anche la loro attività elettrica, che vedete qua, questi sono i segnali elettrici che interessano i neuroni, sono perfettamente normali tra neuroni di controllo o i neuroni cresciuti su questi polimeri. Siamo quindi passati alla prova del fuoco, per così dire, cioè abbiamo illuminato i neuroni post-cresciuti sopra i polimeri, e abbiamo visto che a ogni impulso di luce i neuroni rispondevano con un segnale elettrico, con un potenziale d'azione. La seconda domanda che ci siamo fatti, visto che questi polimeri sono stratificati in uno strato uniforme, la sensibilità spaziale, cioè la risoluzione spaziale, allora abbiamo guardato il campo elettrico che si sviluppa quando la luce colpisce queste superfici polimeriche, che tipo di diffusione spaziale aveva. Abbiamo visto che ovviamente il campo elettrico è massimo dove arriva la luce, ma decade molto rapidamente, questi sono micron, quindi millesimi di millimetro, e decade molto rapidamente spostandosi al di fuori dello spot luminoso. E questo lo si vede anche in un esempio biologico, quando questo è un neurone coltivato sui polimeri, il neurone si attiva solo quando lo spot luminoso è centrato sul suo corpo cellulare, ma se noi lo spostiamo di 20-30 micron vedete che non è più efficace, quindi si ha una notevole risoluzione spaziale. Un risultato recente che abbiamo avuto, tutto questo era stato sempre fatto con dei brevissimi impulsi di luce nell'ambito di tipo 20-30 millisecondi. Ultimamente abbiamo provato a fare anche degli impulsi di luce più duraturi, considerando che l'illuminazione della retina è un qualcosa che può essere sì pulsato, ma può anche essere molto più sostenuto. Abbiamo visto che gli effetti sono bifasici, cioè un'illuminazione molto breve causa eccitazione dei neuroni, mentre quando l'illuminazione diventa prolungata, l'eccitazione si converte in inibizione. Qui vedete la registrazione di un neurone con uno stimolo luminoso lungo, all'inizio il neurone scarica e poi il neurone viene inibito. Cosa molto interessante perché questo, come vedremo poi tra un attimo, riflette anche il comportamento delle due cellule gangliari della retina, le cosiddette cellule on e le cellule off, cioè quelle che rispondono positivamente quando sono colpite dalla luce o quelle che invece si silenziano quando sono colpite dalla luce. Quindi il meccanismo d'azione è sostanzialmente un meccanismo misto, ma sempre molto localizzato. Da un lato il polimero fotovoltaico per le sue proprietà elettroniche intrinseche, se colpito dalla luce, porta a una separazione delle cariche che generano eccitazione del neurone che gli sta a contatto. D'altra parte, se il segnale luminoso permane per lungo tempo, allora si sviluppa un effetto termico molto localizzato, determinato dal fatto che questi polimeri hanno un potere assorbente della luce molto elevato, che genera invece inibizione del neurone. Allora, il passo successivo è stato, proviamo, fino adesso erano neuroni cresciuti sul polimero, ma proviamo un'altra cosa, proviamo a preparare il sandwich con il polimero fotovoltaico, di sotto ha bisogno di un polimero conduttivo e poi un substrato, diciamo, di supporto. Proviamolo a mettere in contatto con quello che rimane di una retina degenerata, vale a dire una retina che non ha più i fotorecettori. Questo è un esempio di retina degenerata, questa è la retina normale, questi sono praticamente i segmenti esterni dei fotorecettori, che vedete sono notevolmente, anche questi nuclei di fotorecettori, sono notevolmente alterati e pressoché spariti, e sostanzialmente questo l'abbiamo utilizzato utilizzando dei ratti che hanno una lesione genetica simile alla retinite pigmentosa, uno dei tanti geni che abbiamo sentito anche oggi sono alterati nella retinite pigmentosa. E quello che abbiamo visto è che una retina di controllo con i suoi fotorecettori, appoggiata sul vetro, se colpita da un impulso luminoso, segnala al cervello. Questi sono dei segnali elettrici delle cellule gangliari che escono col nervo ottico verso il cervello. Una retina invece degenerata, che non ha più i fotorecettori, o che ha perso i segmenti esterni dei fotorecettori, messa su vetro, praticamente non risponde alla luce, mentre se messa sul sandwich di polimero attivo, vedete, ha un'attività elettrica in risposta allo stimolo luminoso che è simile alla retina normale. Abbiamo anche fatto una curva dose risposta per vedere la sensibilità, l'intensità luminosa. Queste sono due retine degenerate, questa messa semplicemente su vetro e quella con i simboli colorati messa sul polimero. e vedete che c'è una notevole linearità, qui leggete la frequenza di scarica delle cellule gangliari, una notevole linearità che è in un campo di intensità che è paragonabile alla luce solare diurna all'esterno. Ecco, la risposta a stimoli prolungati l'abbiamo anche fatta su questi, diciamo, espianti di retina degenerata e abbiamo ottenuto lo stesso risultato che nei neuroni, cioè in pratica quando lo stimolo luminoso è prolungato si ha un silenziamento delle cellule gangliari e quando la luce viene, praticamente lo stimolo luminoso viene spento, si ha un rimbalzo di attività di queste cellule. Quindi un comportamento molto molto simile a quello che hanno le cellule gangliari della retina di tipo off in risposta allo stimolo luminoso. A questo punto siamo passati alla fase successiva che era la sperimentazione in vivo e di nuovo le due strategie usate dai vari tentativi di retina artificiale sono sostanzialmente due. Una è la strategia epirettinica che abbiamo sentito per l'Argus 2 in cui praticamente la retina artificiale che sia di tipo fotovoltaico semplicemente una matrice di elettrodi passivi come è Argus 2 viene appoggiata alla uscita della retina cioè appoggiata sulle cellule gangliari e quindi lo stimolo elettrico si converte direttamente in segnali elettrici del nervo ottico o altrimenti la strategia alternativa è quella sottoretinica che è quella più utilizzata per le retine fotovoltaiche in cui la retina il dispositivo sostituisce i fotorecettori che non ci sono più cioè viene proprio anche messo nella stessa posizione dei fotorecettori che non ci sono più perché in effetti ha la funzione dei fotorecettori cioè convertire la luce in un segnale elettrico e chiaramente anche se la chirurgia può essere più complicata soprattutto se viene fatta dalla camera posteriore dell'occhio il vantaggio di questo impianto sottoretinico è che può sfruttare la circuiteria della retina rimasta che ovviamente le altre cellule non sono degenerate nella stessa misura dei fotorecettori ma normalmente permangono queste sono appunto le reti inesistenti abbiamo sentito dell'Argus 2 che è l'unica che è commercialmente disponibile con i marchi sia CE che dell'FDA ve ne sono altre due in studio che sono tutte e due questa volta fotovoltaiche quindi condividono il principio con quella che stiamo studiando noi una è la retina di Tübingen cosiddetta del gruppo di Zrenner è una retina che viene messa diciamo sottoretinica è una retina fotovoltaica in cui i fotodiodi che sentono la luce eccitano direttamente i neuroni retinici la cosa interessante è che questa retina non ha bisogno di una telecamera perché è fotosensibile intrinsecamente tuttavia ha bisogno di un'alimentazione perché per alimentare gli elettrodi di stimolazione quindi si è riusciti a evitare la telecamera ma rimane l'alimentazione elettrica c'è un'altra retina molto interessante sviluppata a Stanford dal gruppo di Palanker che adesso diciamo si sta sviluppando a livello di technology transfer a Parigi alla Pixium e questa retina è fatta è sempre basata su dei matrici di minuscoli fotodiodi individualmente legati a un elettrodo di stimolazione e la cosa innovativa di questa retina è che non ha bisogno di un'alimentazione classica cioè di tipo elettricità ma viene alimentata e anche istruita da una radiazione infrarossa che viene dagli occhiali che il paziente deve portare quindi è una retina che ha bisogno di una telecamera ma non ha bisogno è wireless non ha bisogno di cavi che uniscono all'occhio e in cosa si differenzia la nostra per quanto sia ancora lontana dalla sperimentazione noto che quella di Tübingen è già in fase 2 di sperimentazione in circa 13 centri europei questa invece è ancora in una fase di sperimentazione in grossi animali nel nostro caso la nostra retina organica ha alcune caratteristiche che se vengono dimostrate potrebbero essere molto originali prima di tutto è un dispositivo completamente organico cioè fatto dalla stessa materia di cui sono fatti i nostri tessuti quindi intrinsecamente biocompatibile in secondo luogo ha una risoluzione che abbiamo visto piuttosto elevata di qualche decina di micron ma senza la necessità di avere dei pixel cioè o degli elettrodi o dei fotodiodi che siano spazialmente distribuiti non ha bisogno di alimentazione di nessun genere né infrarossa wireless infrarossa né diciamo con i cavi e non ha bisogno di camera esterna quindi è un dispositivo che funziona sulla base delle sue proprietà diciamo di materiale intelligente quindi senza nessun'altra connessione con l'esterno abbiamo quindi iniziato a impiantarla nel modello appunto del ratto Royal College of Surgeon ci sono tanti modelli sperimentali nel topo ma il topo ha un occhio troppo piccolo per poter fare un'adeguata chirurgia questa è una mutazione spontanea che è stata selezionata per incroci e quindi è un animale che è molto simile anche al decorso fisiologico della retinite pigmentosa perché nascono vedenti e poi cominciano a diminuire le loro prestazioni visive verso i due tre mesi di vita per diventare poi completamente non vedenti intorno ai 6-7 mesi di vita tenete presente che un ratto vive circa due anni e mezzo o tre come substrato abbiamo scelto un substrato altamente biocompatibile che è la fibroina della seta è la proteina principale della seta che può essere cristallizzata in sottili strati e sulla quale possono venire depositati i nostri polimeri in collaborazione con la professoressa pertile del Don Calabria di Negrar abbiamo quindi iniziato a fare la chirurgia su questi animali l'impianto è un impianto diciamo dall'esterno cioè si fa una finestra nella sclera come si vede qua e da questa finestra si inserisce questa superficie trapezoidale che è il nostro dispositivo pilota ecco qui vedete la protesi sul fondo dell'occhio che è appunto mediante il laser l'oftalmoscopio diciamo e questo è il prelievo autoptico che abbiamo fatto in cui si vede la protesi che è stata posizionata a livello tra la retina e l'epitelio pigmentato abbiamo fatto gli OCT in questi animali ovviamente nel ratto l'OCT non ha una risoluzione come ce l'ha nella retina umana ma vedete questa è la retina e questa banda delimitata da due strisce bianche è la nostra protesi che vedete è in contatto piuttosto stretto con la retina abbiamo anche fatto istologia per vedere se l'impianto generava un'infiammazione abbiamo visto che gli aspetti infiammatori che leggermente ci sono non sono esclusivamente dovuti all'atto chirurgico e infatti nella parte di retina che non è diciamo assolutamente toccata dalla chirurgia non c'è nessun tipo di alterazione infiammatoria vista con dei marker opportuni il polimero rimane anche a lungo termine sulla superficie questo è un esame fatto a 4 mesi dopo l'impianto e inoltre qui vediamo qualche cellula infiammatoria ma complessivamente non sembra che le cellule infiammatorie abbiano nessun tipo di azione negativa sulla superficie della protesi e qui sono i risultati che abbiamo ottenuto intesi come recupero della sensibilità alla luce e questa è la reazione pupillare questi sono animali che quando diventano ipovedenti non rispondono più alla luce con un ristringimento della pupilla e qui vediamo che e qui vediamo appunto gli animali ci sono vari grafici ma non sto ad andare nel dettaglio quello che è certo è che a intensità di luce anche ridotte in cui soltanto gli animali normali rispondono gli animali ciechi impiantati sono in grado di sentire la luce producendo la reazione pupillare siamo andati oltre abbiamo registrato nella corteccia visiva primaria le risposte elettriche a stimoli luminosi a flash luminosi e abbiamo visto che negli animali geneticamente ciechi non c'era nessuna significativa risposta corticale questa è la risposta degli animali vedenti e gli animali ciechi impiantati avevano una risposta consistente alla luce l'ultimo test era un test comportamentale che mi diceva se questi animali vedevano luce o non la vedevano è un test molto semplice si prendono due camere che comunicano con una porta e una camera è completamente buia e l'altra invece è in piena luce intensità della luce che si può regolare l'animale viene messo nel compartimento luminoso e il suo comportamento è quello di scappare molto velocemente in quello buio dove si sente più protetto peraltro sono animali notturni e allora noi abbiamo valutato tra le tante cose il tempo di fuga dalla luce cioè quanto tempo ci metteva dal posizionamento dell'animale ad avarcare la porta andare nel compartimento buio le prime due colonne sono degli animali ciechi che vedete ci mettono tra i 30 e i 40 secondi praticamente arrivano alla porta per caso semplicemente esplorando con l'olfatto nel primo caso sono gli animali non operati nel secondo caso sono operati ma con un dispositivo completamente passivo senza polimeri e invece l'ultima colonna sono gli animali vedenti che in media ci impiegano 15 secondi a scappare al buio e vedete che gli animali ciechi impiantati hanno una performance assolutamente identica agli animali vedenti stiamo adesso analizzando un parametro ancora più diciamo fine che è l'acuità visiva non vi posso ancora presentare dei risultati perché gli studi sono in atto e comunque l'acuità visiva viene fatto mostrando vedete degli stimoli a barre di dimensione via via più fine e andando a registrare le risposte corticali questi sono animali che già di per sé non hanno una grande acuità visiva circa 0,7 cicli per grado questi sono i vedenti albini che sono il ceppo di animale che noi stiamo utilizzando quelli ciechi hanno un'acuità visiva che è tra 0,1 e 0,2 cicli per grado e quindi dobbiamo terminare lo studio per vedere se c'è un recupero anche della qualità dell'immagine non solo della sensibilità alla luce un'altra cosa che stiamo facendo è lo studio a lungo termine ma per il momento siamo già arrivati a circa 4-5 mesi e sembra che gli effetti rimangano attivi quindi questi sono un pochino i vantaggi della nostra proposta quindi una soluzione biobimetica che è biocompatibile anche a lungo termine funziona in maniera autonoma e ha un'elevata risoluzione spaziale e relativa semplicità di impianto sensibilità alla luce diurna e facilità di fabbricazione quindi anche bassi costi di produzione siamo adesso qua nei ratti il prossimo step è passare al maiale che ha un occhio più grande ovviamente siamo in collaborazione col centro di scienze veterinari dell'università di Bologna dove stiamo pensando a vari tipi di approcci chirurgici probabilmente manteremo almeno inizialmente il discorso trans-sclerale stiamo passando come substrato dalla seta al PET per avere diciamo una maggiore maneggevolezza chirurgica e una maggiore costanza negli spessori nei risultati tra l'altro il PET è già stato ampiamente approvato per protesi umane ad esempio le protesi vascolari quindi è un materiale assolutamente ben tollerato stiamo facendo appunto il modello 3D dell'occhio del maiale e stiamo disegnando con il laser la forma migliore per impiantarlo a livello maculare e il PET l'abbiamo già provato nel rato e sembra avere un'ottima biocompatibilità vedete lo strato di polimero rimane questo dopo due mesi dall'impianto quindi diciamo si comporta molto bene in maniera analoga alla seta quindi non ha una reazione maggiore e quindi sembra essere un valido supporto per i prossimi studi prossimi studi che appunto verranno fatti nella trezzatissima sala operatoria della veterinaria di Bologna e saranno seguiti da studio sia mediante elettroretinogramma che studiando il comportamento degli animali per vedere appunto la capacità di risoluzione spaziale bene io con questo finito vi cito e ringrazio i gruppi grazie il mio gruppo all'IT di Genova il gruppo del professor Lanzani al centro dell'IT di Milano al Politecnico di Milano e il contributo importantissimo di Grazia Pertile Maurizio Mete dell'ospedale Don Calabria Silvia Bisti dell'Università dell'Aquila e appunto più di recente il gruppo di Maria Laura Bacci alla veterinaria di Bologna grazie ringrazio molto il professor Benfernati per questo affascinante percorso di questa retina fotovoltaica di Bologna di Bologna che